Il PD fa il proprio esordio nella tredicesima legislatura regionale con un classico della letteratura politica, quello del taglio alle indennità dei consiglieri regionali, una sforbiciata del 50% contenuta in una proposta di legge che porta la prima firma di Alessandra Salvatore, neoeletta consigliera regionale. Ho protocollata lunedì pomeriggio, il 24 pomeriggio, per dimezzare le indennità di consiglieri e componenti dell'Aggiunta, compreso il presidente dell'Aggiunta regionale, la condivisione da parte di tutto quanto il centro-sinistra, tutti i consiglieri di centro-sinistra che nel momento in cui sarà portata in discussione, speriamo presto, visto che ho chiesto la procedura d'urgenza, daranno ovviamente supporto a temi che peraltro hanno già trattato anche loro. A sostenere l'iniziativa c'è tutto il PD, come rimarca il segretario regionale del partito, Vittorino Facciolla. Chiaramente non ho apposto la mia prima firma per ragioni evidenti che erano finalizzate a evitare la strumentalizzazione, perché queste proposte di legge, oltre che essere ancorate ad un contesto sociale-economico evidente, rischiano laddove siano portate in prima istanza da chi ha avuto ruoli politici importanti nel passato e di passare come strumentali e demagogiche. Siccome invece mi sembra che questa possa essere di tutt'altra fattezza, farla presentare da Alessandra perché ne è l'ideatrice, l'ispiratrice e perché in sostanza l'ha scritta, rappresenta per noi una modalità di presentazione della stessa diversa. Sempre Facciolla parla dell'aspettativa dei Dem circa la condivisione del provvedimento da parte di tutte le opposizioni in consiglio, 5 Stelle in testa. È una proposta condivisa anche col Movimento 5 Stelle? Alessandra so che l'ha girata prima di presentarla su una chat che è della minoranza che abbiamo, quindi mi sembra che abbia fatto le cose come si usa farle, provando a condividerle e consentendo la possibilità, laddove lo si voglia, di firmarla a valle della presentazione. Cambiano i tempi ma certi temi restano, vedremo come andrà a finire, specie adesso che anche i 5 Stelle hanno smesso di tagliarsi le indennità e versano un obolo al partito. Per la legge è stata chiesta la procedura d'urgenza, vedremo quindi a breve se passerà in aula. Resta tuttavia sempre la possibilità, qualora la legge venisse bocciata, di agire da soli e di mezzarsi in motu proprio l'indennità mensile.